Presentato ad Andria il libro di Cosimo Posi, Il potere capovolto, la politica nella Bibbia e nella Chiesa, iniziativa a cura del movimento ecclesiale di impegno culturale della Diocesi di Andria. Il servizio di Francesco Rossi. Eccellenza, il tema della politica e il rapporto con la fede è un tema antico, che addirittura è, vediamo oggi, riproposto sia nell'Antico che nel Nuovo Testamento. E' un tema antico perché è da sempre che ci sono questi due ambiti, queste due sfere, che talvolta camminano concordemente senza invasioni di campo per il bene dell'uomo e della società, talvolta è successo che si sono un po' mescolate le carte e l'una ha travalicato i propri confini per invadere il territorio dell'altro. Ecco, io penso che la riflessione di questa sera sarà preziosa per capire bene la differenza degli ambiti e nello stesso tempo le interconnessioni, quelle chiavi di lettura che permettono di capire in che misura la fede deve relazionarsi, in che modo la fede e la prospettiva di fede deve relazionarsi con la gestione del potere, della cosa pubblica. Un tema che è molto delicato allargando lo sguardo, soprattutto in alcune altre religioni, che portano poi a delle commissioni pericolose per il resto del pianeta. Sì, sicuramente ci sono altre fedi che su questo punto hanno un po' di confusione e si muovono in maniera impropria, provocando poi movimenti nei quali si pretende di avere la fede come a comandare le proprie scelte politiche e addirittura partitiche. Però non dimentichiamo che anche la fede cristiana nei secoli passati qualche volta l'ha fatto. E' quello che si chiama poi integralismo, cioè la pretesa di entrare a spada tratta con una prospettiva di fede in campo sociale, politico. Questo non dovrebbe essere fatto. Il tema che lei tratta è un tema che ha attraversato i secoli, il rapporto tra politica e fede. Sì, è un tema interessante, è un tema che ha attraversato i secoli, solo che oggi deve essere rivisto, rivisitato. Nel libro, che ha un taglio biblico, non ha un taglio politico, non ha un taglio di teologia politica, un taglio biblico, si cerca di interrogare la Bibbia per vedere se la Bibbia può suggerire non tanto delle ricette politiche per l'oggi, quanto degli orientamenti che in qualche modo possano poi ispirare la prassi socio-politica. In un momento come questo, dopo il crollo degli ideali, come viene definito dall'89 in poi, si è ancora alla ricerca di una novità ideale che possa interessare i giovani. In questo cosa ci può venire in soccorso? Nel libro io cerco, insomma, di rivalutare il personalismo di Meunier e poi anche tutta l'esperienza di De Gasperi e di Sturzo. Il cattolicesimo democratico è in crisi, però non è tanto in crisi la visibilità, quanto la profondità. E allora c'è bisogno veramente di andare nel profondo e soprattutto di fare una politica del dialogo, costruire una politica del dialogo con tutti gli altri soggetti, perché veramente l'impegno nel sociale diventi prioritario.